Benvenuti su Meteo Giuliani, il tempo previsto per lunedì 18 marzo. La perturbazione la cui avanguardia nella giornata domenica, alla fine del giorno aveva raggiunto gran parte del nord e si propagherà lunedì a quasi tutta l'Italia con le sue correnti fredde, investirà anche la regione centrale, alla fine del giorno anche quelle meridionali. Ecco allora gli eventi di rilievo, pioverà sulla Toscana e se tutto il nord Italia tranne la Val d'Aosta, il Piemonte, il Ponente, Ligure e l'Emilia, regioni purtroppo che ancora soffrono di gravi siccità, quindi il contentino delle piogge ci sarà ma limitatamente alcune regioni del nord Italia. Le temperature in compenso scenderanno perché siamo fino a domenica 5-6 gradi al di sopra domenica, guarda caso scenderanno tra i 6-8 gradi su quasi tutta l'Italia dando la sensazione di freddo perché anche se raggiungeremo i 10-12 gradi ma sbalzi improvvisi di 7-8 gradi in 24 ore danno sempre una sensazione di freddo e i venti cominceranno ad essere abbastanza intensi, eventi che arriveranno freddi appunto da Balcane e soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci. Grazie. Grazie.